Eccoci, siamo giunti all'ultima sessione community e l'ultima sessione in generale di questo blocco, di questa giornata. E' con piacere che vi presento di nuovo Raffaello Poltronieri, che anche lui è un ospite abituale, collaboratore del VMUG. Oggi è una sessione community particolare, lui la definisce leggera, ma secondo me non è tanto leggera, nel senso che è comunque importante, potremmo definire un po' back to basics. Quindi parliamo di concetti che dovrebbero, sono a volte più, a volte meno consolidati, come può essere quello del disaster recovery, backup, business continuity. Che è un tema centrale, fondamentale per noi, che ci occupiamo di IT, di infrastruttura e di applicazioni. Perché poi una volta, forse, tanti anni fa, il disaster recovery si faceva solo con lo storage. Tu prendevi due storage, li mettevi in replica tra due siti diversi, prendevi la ruspa, scavavi, mettevi la fibra e questo era il disaster recovery. Non è così, non è più così almeno. Abbiamo una pletora di strumenti, di soluzioni, di tipologie diverse, di allineamento fra siti diversi, compresi anche i siti cloud, che sono ovviamente importantissimi, e chi più di te può dircelo. Quindi ecco, facciamo un po' questo approfondimento teorico-pratico. Anche il cloud non è infallibile, quindi. Ah beh, certo, alla fine. È il computer di qualcun altro. È il computer di qualcun altro, assolutamente. Assolutamente. Perfetto, grazie mille Raff, buona sessione, il palco è tuo. Buonasera, grazie per essere venuti qui. Grazie per la presentazione di Danilo, io sono Raffaello Poltronieri, sono Cloud Solution Architect per un Cloud Service Provider italiano. Ho qualche certificazione, tra cui VMware e AWS, sono VXpert per il sesto danno consecutivo. In IT da circa 20 anni, e specificamente nella virtualizzazione da almeno 15. Oggi vorrei parlarvi, appunto, una sessione un pochino più leggera, quindi volevo introdurvi degli strumenti di protezione del dato, che a volte vengono confusi l'uno con l'altro, e che soprattutto hanno degli scopi differenti da dei loro. E poi la possibilità di poterli mixare per avere una soluzione specifica per ognuno. Quando appunto parliamo di protezione del dato, spesso gli strumenti, come dicevo prima, vengono confusi. Questo perché spesso i confini tra le varie soluzioni sono labili, sono adiacenti, in alcuni casi anche sovrapposte. Ma ancora, anche se si sovrappongono questi confini, spesso queste soluzioni sono determinate dalla protezione di un dato, che soddisfa dei bisogni differenti. Parlando appunto di protezione del dato, è importante cominciare a parlare di due tipi di valori importanti, che sono l'RTO e l'RPO. Possiamo definire RPO, quindi Recovery Point Objective, il tempo che passa tra l'ultima replica andata a buon fine e il disastro vero e proprio. Quindi, in altre parole, parliamo della quantità massima di dati che potremmo perdere appena prima del disastro. Va da sé che minore è questo tempo, quindi minore è questo valore e meglio è. Mentre RTO, Recovery Time Objective, è il tempo che passa tra il disastro e la ripresa nell'operatività totale. Anche qui, in altre parole, parliamo del downtime, quindi dal momento in cui c'è il disastro a quando l'azienda riprende la sua operatività completamente, e anche qui minore è questo valore e ovviamente meglio è. Questo è un semplice grafico, veramente semplicissimo, dove però vediamo che questi valori di RTO e di RPO viaggiano parallelamente. Nell'asse delle ordinate non parte da zero perché l'RTO è sempre maggiore di RPO, perché una volta ripristinato il dato occorre comunque un minimo di tempo, e questo tempo dipende dalla pianificazione, dall'automazione e via dicendo, per verificare che quei dati ripristinati siano effettivamente utilizzabili, fruibili. Su questo semplicissimo grafico ci sono appunto le tre soluzioni che andremo a vedere oggi. Da questo grafico ci verrebbe da dire, beh, business continuity, sembra che sia la cosa migliore. Andiamo avanti e ritorneremo su questo grafico più tardi. Partiamo dal primo, dal primo strumento, backup, backup classico. Il tipico backup chiede dei tempi di esecuzione piuttosto ampi, mantiene i dati per lunghi periodi, viene effettuato normalmente a cadenze regolari, segue la regola del 3-2-1, dove tre sono il minimo di copie da archiviare, su due media o posti differenti, una delle quali almeno offline. Come dicevamo, questa operazione, questo strumento richiede dei tempi piuttosto dilatati, richiede uno spazio piuttosto grande. È vero che lo spazio sullo storage può essere compresso. E' vero anche che però a questa compressione, maggiore la compressione, minore lo spazio occupato, ma maggiore il tempo che occorre per archiviarlo. E, allo stesso modo, nel momento in cui venisse appunto ripristinato il dato, richiederà ancora più tempo per la reidratazione. Quindi c'è da trovare un po' un trade-off tra la compressione e l'occupazione sul disco. Riguardo lo storage, diciamo che questo tipo di storage non necessariamente deve essere ad alte performance, ma deve essere durevole e affidabile nel tempo. Possono esistere, possiamo parlare di diverse policy di backup, a seconda del tipo di dato, più o meno importante, più o meno critico. Però in ogni caso parliamo di valori di RTO e di RPO piuttosto ampi rispetto alle altre soluzioni. E passiamo quindi all'altra soluzione, che è quella della disaster recovery. Il disaster recovery ci dà la possibilità di riavere il dato indietro e quindi l'operatività sul nostro ambiente in seguito a un disastro, un disastro che può essere causato da mille cause, che può andare dall'errore umano al virus, a incendio, meteorologia. Non parlo delle meteorite perché in quel caso avremo altri problemi da risolvere. In questo caso, rispetto alla soluzione precedente, avremo dei valori di RTO e di RPO sicuramente inferiori. Ma soprattutto avremo una serie di punti di ripristino brevi, perché è vero che anche col backup abbiamo dei punti di ripristino, però parliamo appunto di RPO ampi. In questo caso abbiamo punti di ripristino vicini tra di loro. Poi vediamo qual è il vantaggio che ci porta ad avere questi punti di ripristino piuttosto frequenti. A differenza della soluzione precedente, lo storage in questo caso deve essere pari a quello di produzione. Questo perché nel momento in cui io recupero un sito di produzione, il nuovo sito di produzione andrà appunto, come ho appena detto, andrà in produzione. Quindi dovrà avere le stesse performance del vecchio sito di produzione. Parliamo quindi di, sebbene piuttosto bassi, i valori di RPO non sono zero e per questo motivo non possiamo chiamare questa soluzione una soluzione di replica sincrona, ma asincrona, perché comunque c'è un piccolo periodo tra un punto di replica e l'altro punto di replica. Finiamo. L'ultima soluzione è quella che non crea nessun impatto sulla operatività. Un disastro o un fault del sito di produzione non provoca nessun impatto. Questo normalmente viene realizzato tramite un secondo sito di produzione. Secondo sito di produzione, quindi una sincronizzazione reale tra i due siti. Chi sta operando sul primo sito non si accorge che è già passato sull'altro. Anche se, se ricordiamo il grafico precedente, l'RTO comunque non partiva da zero perché sarebbe bene da parte dell'IT comunque controllare che l'altro sito sia effettivamente in ordine, insomma che rispecchi quello che ci si aspetta. Quindi in questo caso abbiamo RPO pari a zero, RTO quasi zero. Però anche questo, diciamo, sembra tutto bello, fantastico, però anche questo ha delle conseguenze. Prima fra tutti abbiamo un secondo sito. Un secondo sito significa raddoppiare le risorse che sono in produzione, che significa anche raddoppiare i costi per delle risorse che probabilmente non verranno mai usate o verranno usate pochissimo. Però questo, comunque, questo discorso di costi può avere un senso perché se parliamo di dati critici può avere senso comunque spendere dei soldi per avere un sito secondario. però ha un altro lato negativo. Prendiamo un esempio in cui il sito primario venisse attaccato da un virus ransomware. Abbiamo una replica sincrona, quindi con un attacco ransomware automaticamente anche il secondo sito verrebbe impattato. Quindi, sembrerebbe che nessuna, tra i costi, tra i tempi, tra i punti di ripristino che mancano, sembrerebbe che nessuna di quelle soluzioni di cui abbiamo appena parlato sia ideale. E quindi il grafico che avevamo visto prima, dove sembrava il business continuity, fosse la soluzione a tutto, in realtà non è così. E la soluzione a tutto non esiste un one size fits all, ma esisteranno combinazioni di queste soluzioni a seconda delle necessità dell'utente. Quindi non potrà esistere una unica ricetta per tutti. Partiamo da un assunto. Backup è alla base di qualsiasi ricetta, si chiamiamo questo libro di ricette. Il backup va sempre fatto, andrebbe sempre fatto, tra parentesi. Tra parentesi numero due andrebbe anche testato. D'altronde facciamo il backup delle foto di famiglia, facciamo il backup dei filmini. Non vedo perché non dovremmo fare anche il backup di libri contabili. Come dicevo prima, possiamo pensare a diverse policy a seconda del tipo di backup. Non esiste un'unica policy del dato da backupare, però possiamo utilizzare diversi tipi di policy. Però nel caso di dati critici, magari potrebbe non bastare l'RPO ampio che ci dà un backup. E quindi che facciamo? Aggiungiamo un ZS Recovery. Quindi abbiamo sempre, in questo caso, la base che è data dal backup. Quindi tutti i dati storici fino all'anno, insomma, ai diversi anni. Ma sopra le ultime ore o giorni, a seconda dello strumento utilizzato, ci vengono garantiti sia in termini di RPO, sia in termini di RTO, in tempi accettabili per poter riprendere subito a lavorare. Quasi subito a lavorare. Questo subito, quasi subito, ovviamente anche qui dipende dal tipo di soluzione. Però parliamo comunque di, nel caso di disaster recovery, di RPO, che sta nell'ordine di minuti, di secondi, se ci va bene, ma sicuramente non parliamo di ore. Così come l'RTO, quindi la ripresa delle operazioni, possiamo parlare di ordini di minuti, forse di ore, ma sicuramente non parliamo di giorni. Quello è il caso del backup. C'è un'altra ricetta su questo libro, che però è piuttosto strana. Ne ho viste alcune, ovvero la base, continuo a ripetere, è sempre quella del backup, da lì non si esce. L'ho chiamata come una situazione piuttosto anomala, perché comunque è vero che ho la sicurezza di poter continuare a lavorare su un sito in modo immediato, quindi passaggio da un sito all'altro immediatamente, però c'è un buco logico su questo tipo di ricetta. Mi tolgo l'opportunità di poter tornare indietro a un punto di ripristino precedente. Quindi il caso appunto di prima di cui parlavamo, del ransomware, io non ce l'ho, in questo caso non ho la possibilità di tornare indietro. Tra l'altro la business continuity abbiamo visto che è una soluzione piuttosto costosa. E quindi, e quindi perché non andare con tutta la soluzione. Questo tipo di soluzione ci dà quindi lo storico dai giorni, mesi, anni, che mantiene tutti i dati archiviati, i dati importanti archiviati. Disaster recovery che ci copre dalla possibilità di avere subito i dati, quasi subito i dati protetti, ma in questo caso è poco importante questo aspetto, perché l'avremmo già con la parte superiore, quindi con la business continuity. Abbiamo però, in questo caso, la possibilità di tornare a un punto di ripristino precedente all'ultimo, perché magari l'ultimo punto di ripristino è stato creato, faccio un esempio di un database, mentre c'era una transazione in corso. Quel database, nell'ultimo punto di ripristino, ci risulta inconsistente. Quindi torniamo indietro di uno step, due step, tre step, comunque con intervalli sicuramente molto più stretti rispetto a quelli del backup. Qui io continuerò a ripetere, l'ho già fatto prima, lo farò ancora adesso. Tutte e tre le soluzioni già appena presentate devono essere testate. Devono essere testate a intervalli regolari. Ma questo non soltanto per vedere se effettivamente c'è stata una corruzione di dati o quant'altro, no, ma anche semplicemente perché io potrei aver sbagliato a puntare il path di replica, oppure semplicemente perché ho puntato il backup su una cartella, quella cartella era vuota e rendendomi conto di questo durante un disastro, è un disastro, non è un disastro. Quindi testate, testate, testate. Faccio un chiarimento. Ora, vado a sé che io fino adesso non ho parlato mai di piano di recovery. Fino adesso ho parlato di tecnologia. Non ho fatto riferimento a piano di disaster recovery né tantomeno a un piano di business continuity. Tra l'altro ci sono il piano di disaster recovery, non è il disaster recovery, è differente, il linguaggio tecnologico è diverso da quello, chiamiamolo burocratico, procedurale. L'uno fa parte dell'altro, ci sono una serie di procedure appunto. La parte di tecnologia è riportata in queste procedure e queste procedure vengono a loro volta riportate nei piani. In quest'ottica, diciamo che quello di cui ho appena discusso, queste tre soluzioni, sono quelle che si trovano alla base di questa piramide. Perché tutta questa piramide, o meglio, metà di questa piramide ci dà il piano di disaster recovery, piano di disaster recovery, non soluzioni di disaster recovery, e tutta la piramide ci dà invece il piano di continuità operativa, dove appunto alla base, dicevo, c'è la tecnologia, in mezzo troviamo la parte di validazione dei dati, e in cima c'è effettivamente la business continuity, con tutte le strategie che ne conseguono. Quindi, questo tipo di piano, ripeto, non parla soltanto di tecnologia, ma parla anche di persone, di chi deve intervenire in caso di disastro, quali sono gli elementi per cui oggettivamente un'azienda può dichiarare disastro, le persone appunto in ordine di priorità che prenderanno in mano la situazione, se l'elite manager si trova in scalata in Nepal, è irraggiungibile, deve esserci una lista di persone che prende in mano la situazione. E tutto questo deve essere scritto. Ora, io qui non porto acqua al mio mulino, perché un cloud service provider offre la tecnologia, mette a disposizione la tecnologia e quindi diciamo la parte inferiore di questa piramide. Esistono delle aziende, normalmente sono quelle che poi si occupano anche delle certificazioni, che lavorano braccio a braccio con l'azienda stessa e definiscono tutti questi punti. Più è pianificato, più è corretto, più c'è un dettaglio nel caso in cui avviene un disastro e più è veloce e più è indolore il disastro stesso. Io avrei anche finito, così vi lascio tranquillamente in anticipo, visto che abbiamo fatto una giornata piuttosto piena. Se ci sono domande, io, qualora dovessero arrivare successivamente le domande, vedete il mio handle Raffa Polli in Twitter oppure chi ha la pazienza di andare a dare un occhio, c'è il mio blog via dicted.wordpress.com Grazie. Grazie Raffaello. Qualche domanda dal pubblico in sala? Tutti fate il backup? Ecco, questa è un'altra cosa. Tutti testate il backup? Quanti sono quelli che effettivamente, no, questo è troppo, no, va bene, quanti sono quelli che utilizzano il disaster recovery? Il disaster recovery è inteso come breve tempo di ripristino, quindi frequenti punti di ripristino e per frequenti intendo minuti, massimo un'ora, uno, ho visto, due, tre, quattro, direi che buono, backup non evito perché vedrei trovare delle bugie. Siamo sicuri che ce l'abbiano tutti. Business continuity suppongo un po' meno, facciamo un business continuity, ma però, vedi, ottimo, ottimo, e chi invece fa tutto, ovvero, ecco, bellissimo, abbiamo una platea grande, la chiave sia quella, tu hai detto giustamente un giusto mix, no, è la risposta giusta e spesso, poi con il lavoro che faccio, insomma, lo sapete dove lavoro, ci troviamo spesso a chiedere ai clienti, no, cosa utilizzano, cosa mettono in campo e una cosa che a volte abbiamo difficoltà a identificare è se il cliente abbia fatto o meno quella che in gergo si chiama la BIA, la Business Impact Analysis, no, che ti consente proprio di individuare quali sono i servizi, gli applicativi, i sistemi più critici, via via poi meno critici, per andare magari ad assegnare a ciascuno di essi una classe di servizio diversa, no, Business Continuity per questo servizio qui, Disaster Recovery per quest'altro qui, Backup per questi altri qui, perché magari scopriamo che non ha senso spendere milioni di euro per mettere tutto in Business Continuity che ha comunque delle implicazioni potenti anche sulla banda, non solo sui costi vivi, ovviamente, di investimento, ma anche sulle risorse computazionali, network, eccetera, quindi spesso su questo aspetto ecco, tante aziende si stanno attrezzando sul identificare correttamente le priorità, questo ci fa piacere. Vediamo se c'è qualche domanda dal pubblico remoto che resiste stoicamente collegato a quest'ora nonostante tutto. Nonostante il giorno feriale. Qui ancora nulla, vediamo nella sessione specifica. Ok. No, nessuna domanda. Grazie ancora, Raf. Grazie a te. Grazie a tutti voi. Grazie.